No, è una cosa un po' particolare Registra? Registra, sarei bianco E bello a tutti mozzarelloni, sono oggi per questo nuovissimo video ragazzi Oggi siamo qui, sono in una località diversa, sono al mare E oggi ragazzi si va a Napoli ragazzi A trovare due persone speciali Vabbè, non so se l'ho messo nel titolo o nella copertina Comunque, cioè, sono abbastanza prevedibili insomma Mi sono svegliato alle 6 di mattina apposta Avrò dormito una roba come 4-5 ore Però vabbè, certi sacrifici devono essere fatti Quindi devo andare a prendere il treno E ci vediamo a dopo, se non mi addormento sempre Ah e ovviamente, maglia mozzarellone Quale miglior occasione se non quella di oggi per essere fieri di indossarla Si va! E' il momento It's moment Let's go Che inglese Ok, abbiamo arrivato alla stazione centrale Adesso andiamo a cercare Suto Antonio ci raggiunge dopo Tony, dai Ragazzi, sto tremando Ragazzi, sto tremando E' un'emozione grandissima Mamma mia Allora, non lo so, però Mi hanno fermato due persone che Non so, voi le conoscete Ma ragazzi, cosa è soldo? Ragazzi, ragazzi Ma ragazzi, cosa è soldo? No, no E io, ma ragazzi, cosa è soldo? No, frate, ma no, no, frate Ehi, ma bello Ehi, ma bello Come va? Ma mamma mia, quanto sei alto? Quanto cazzo sei alto? Una bestia Io pure sono alto Mi rispettate Scusa, ma l'ascensore dove si prende? L'ascensore è qui Ah! Tra l'altro, appena sono arrivato, tipo, mi hanno indicato centomila strade di contrabbando Garibaldi Raga, cosa sta succedendo? Mamma mia Hai fatto l'errore più grande di dare una sciaima a un napoletano Un napoletano che fa il biglietto Mi hanno portato, tipo, in una parte abbastanza buona di Napoli, stile Torino Adesso andiamo a cercare qualche maglia pezzotta del Napoli Di sicuro la maglia non me la metterò mai, se la prendo, perché comunque non è di un materiale fatto per metterla Però giusto per metterla in camera, come souvenir, diciamo E adesso telefono del carro Allora, però, una cosa Ok la cut, ok tutto, però io sono venuto a Napoli per mangiare Perché sto sciupato Cosa di pizza fritta a Napoli Frittatina Frittatina Vai, mangi, ma vai Non pensavo Ora adesso Eh, coscia, attenzione No, è una cosa un po' particolare Registra Registra, stai piegando Bravo Comunque, pizza buona, veramente Broscotta Eh, coscia, buona Allora, ragazzi, il vero motivo per cui sono venuto a Napoli È solo uno È solo uno Originalissima, tra l'altro Da qui si vede, eh Ma io dico, no? Che pezzotta, ma una N Almeno che il, ovvio Vabbè dai, ci sta, ci sta Mamma mia, mi sento human safari con questi occhiati Raga, mi dovete insegnare la tempistica, io non so quando attraversare È un orologio della Daniel Wellington Forse, si spera Comunque, appunto, un orologio che ho voluto troppo prendermi Cercavo già da tempo Tanto qui, presente Bill Clinton che mangiava pizza Cici da nessuno Comunque, raga, fa un caldo della madonna, veramente Si muore Ho voglio, ho voglio troppo andare a casa di Antonio Perché poi mia nonna ha detto, non far salire nessuno Allora, a un certo punto mi ha fatto schifo la Monster Ha buttato tutta a terra Si fanno ste cose? Si si fanno Che incivile, che incivile, mamma mia È arrivata nuova gente E non è neanche presentato Lui è Giuseppe Luzer, Mignione Provincia di Scampia Provincia di Scampia Sul serio, per farla a lui dovevo fare una schiacciata Una montagna Cioè, Michael Jordan, live da Nanzo Comunque, sono qui al mare C'è veramente una pista bella Oddio, ma qui c'è un pazzo suicida Mi butto Scusi, scusi, signore, puoi buttarti Devo farmi i soldi per Devo pagarmi le vacanze Devo pagarmi le vacanze Si vuoi buttare E' uscito Si E ti chiami Gesù Però è importante che mi fa fare visual Devo pagarmi la vacanza È stato bello Comunque, eh, raga Ha bella vista, cioè È troppo bello Saluta, Roberto Antonio Antonio Che ingegni No, non li starò toccando mai Pronto 18 Frank Matano I scarzi telefonici Oh Johnny Depp dei poveri Il Vend Porca la p***a Comunque, ora andiamo a mangerci Tipo, da qualche parte Che hanno detto Che costa poco Quindi Cioè, qui a Napoli Più o meno Tutto costa poco Altro che Torino Cioè, a Torino Devi renderti un rene Tipo, per farti un pranzo Andando, tende il suicidio Qui c'è Better col soul Questo uomo Ha speso 20 euro in acqua Io ho perso Tengo un euro e 10 per andare a casa Un euro e 10 per accompagnarlo E poi non c'è i soldi Antonio Tony ha detto che scavalca Le ultime parole famose Se mi arrestano Se lo arrestano Li portiamo le arance E anche un po' di mozzarella Che non guastano mai Ma che Troppo buona sfogliadella Sfogliadella Dai pure, dai Guarda, è scobar Tutto bianco sono Quella po' più rosa Giudice, tu mi sei venuto Scampia Eh, è pure Ma non ci sono C'è 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 E tu prima Ci hai sputato sopra Ragazzi siamo passati ai tornelli gratis Ma Sì Desidera Cazzo ci arrestano Ragazzi Ricordo bene Portatemi le arance Ma restano Puzzali bruciato Non ci prova Ok human safari mode ok raga abbiamo preso la metro siamo fatti una decina di fermate adesso andiamo prima a casa sua poi andiamo a casa di questo individuo Tony per fare una mini live così al volo se siamo riusciti a fare la live sicuramente l'avrete già vista comunque ci becchiamo a dopo ora stiamo andando a casa di Tony appunto come ho detto prima fare una mini live dobbiamo fare in fretta perché devo prendere il treno alle 6 e mezza e poi è già finita la giornata quinto piano ancora uno ce la possiamo fare we are the champions come c'è l'ascensore what the fuck adesso siamo a casa della nonna di Antonio perché appunto qui c'è tutto computer raga siamo in live mamma mia raga troppo bello finalmente la live ma io sono ancora in live su instagram inception come si finisce la live mamma mia che fierezza in live con la maglia di Napoli da Rocca c'è su cristo ok abbiamo finito la live aglio ma io non ho mai comprato la penna in vita mia io ho parlato ma sta qui registrando allora ora mi firmeranno la maglietta mamma mia che onore sono troppo eccitato troppo eccitato altro che mates anto la penna ma il genere si spamma al fine live ma si è proprio il cancro con lei no 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 io ho scoperto la dita la dita ma ci fa ci faccio la mia va così per essere forever a Londra tipo uno sta sotto e io faccio il po' di da mangiare che giorno è oggi? fatto va si va a prendere la metro dobbiamo muoverci ragazzi siamo in ritardo allora ragazzi la giornata è finita sono tipo quasi le 6 dobbiamo prendere la metro perché io devo ritornare a Garibaldi per prendere poi il treno insomma e ritornarmi insomma al campeggio già finita la giornata mi mancherete mi mancherete mi mancherete perché sei il tago pro vabbè ragazzi che dire se questo video vlog vi è piaciuto di lasciare un bel pulcino su un commentone e tante bellissime cose ragazzi anche lui fa l'auto per il suo video guarda quanto è bellino quanto è bellino vabbè ci vediamo al prossimo video bye bye saluta aspi 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 salutate ammazzato iscriviti al canale iscriviti al canale